nella vita si sa gli imprevisti sono sempre in agguato spesso si presentano proprio in quei momenti in cui ci stiamo godendo le nostre passioni o il nostro meritato relax questa situazione mi fa venire in mente la storia di un nostro affezionato cliente paolo agente di commercio di successo di treviso nella vita a due grandi passioni viaggiare con il suo camper e praticare sport all'aria aperta soprattutto il mountain bike decide quindi insieme alla famiglia di recarsi in svizzera per trascorrere alcuni giorni di vacanza all'aria aperta immerso nella natura il tempo non è dei migliori ma paolo non può sicuramente rinunciare alla propria passione e quindi decide di andare a fare un giro insieme ai propri figli con il suo amato mountain bike purtroppo lungo un sentiero in discesa una radice particolarmente sporgente fa incastrare la ruota anteriore del mountain bike di paolo lui viene catapultato per aria e casca rovinosamente le conseguenze dell'incidente appaiono subito serie per questo paolo viene trasferito in una clinica privata dove si decide di intervenire d'urgenza per ricomporre la brutta frattura che paolo ha subito alla spalla i costi dell'intervento sono sicuramente importanti e fra il resto paolo avrà davanti a sé un lungo periodo di convalescenza durante il quale non potrà svolgere la propria professione è una situazione critica sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico ma paolo la vive in maniera serena perché anni prima in maniera previdente aveva deciso di fare per sé e per la propria famiglia una polizia infortuni a protezione di questi rischi ed è proprio la polizia infortuni che rimborsa completamente i costi dell'intervento a paolo e che grazie alla diaria da inabilità gli permette di far fronte a quel mancato guadagno derivante dal fatto che non ha potuto svolgere la propria professione chiaramente per i prossimi mesi paolo non potrà più praticare lo sport come ama fare ma potrà continuare viaggiare seneramente con il camper insieme alla propria famiglia l'infortunio è sempre dietro l'angolo può capitare durante la nostra attività professionale può capitare durante la nostra vita durante il tempo libero ricordatevi che molti degli infortuni avvengono addirittura all'interno delle mura domestiche ed è per questo che paolo ha scelto la polizia infortunio care for you per proteggersi proprio da questi rischi